Parlate tifosi napoletani. Adesso vi riportiamo le ultime rivelazioni fatte dal capitano Giovanni Di Lorenzo, ma prima di entrare nei dettagli iscrivetevi subito al canale e restate aggiornati sulle ultime novità. Di Lorenzo ha sottolineato l'importanza di giocare con determinazione e solidità difensiva, sottolineando che affrontare il Real Madrid sarà una sfida speciale. Il capitano ha comunque sottolineato che il Napoli è preparato alla sfida. Soprattutto quando gioca in casa con il fervido sostegno dei propri tifosi. Giovanni Di Lorenzo ha riconosciuto anche le qualità del suo avversario, come il giovane e talentuoso Vinicius Joerre, che nonostante la sua giovane età, ha già lasciato il segno a Madrid. Ha sottolineato la necessità di mantenere la vigilanza nei confronti dell'intera squadra del Real Madrid, sottolineando l'importanza di imporre il proprio stile di gioco quando si ha la palla. Il capitano del Napoli, però, ha chiarito che l'attenzione non è solo inseguire individualmente Vinicius o qualunque altro avversario. Ha riconosciuto che affrontare una squadra con così tanti campioni è una sfida, ma ha promesso che il Napoli sarà coraggioso e proattivo nella ricerca del successo. Allora tifosi, cosa ci dobbiamo aspettare dallo scontro tra Di Lorenzo e Vinicius Joerre? Lascia il tuo commento qui sotto e non dimenticare di sostenerci. Metti mi piace e condividi questo video. Altre novità in arrivo. Forza Napoli sempre!